Buonasera a tutti, siamo qui davanti alla Galleria IAC di Impruneta, davanti all'entrata dell'Associazione Artistica Art Art e siamo lieti di invitarvi alla mostra Essere senza futuro, organizzata per la giornata della memoria dalla Casa del Popolo, Art Art, la Fila Armonica e Lampi, una giornata dedicata alla memoria e alle violenze sotto ogni punto di vista, sia fisica della guerra, sia mentale dei vari soprusi che ci sono oggigiorno nella nostra società. La mostra aprirà il 27 di gennaio alle ore 21, inaugurando la mostra con un trio d'ottone della Fila Armonica Giuseppe Verdi di Impruneta e seguirà l'inaugurazione della mostra dei dipinti e delle sculture presenti nell'evento, che sarà di tre giornate, dal 27 di gennaio, dove avrà la sua inaugurazione, fino al 29, dove si concluderà alle ore 21 la manifestazione di tre giorni. Vi aspettiamo numerosi, buona serata! Grazie a tutti!